Ciao a tutti, eccoci qua per un altro video, extra che faccio sempre in compagnia di Mr. Screen, buongiorno a tutti. Ecco, giusto per puntualizzare, ovviamente questo video lo stiamo registrando nel momento in cui siamo qui assieme a lavorare, tra virgolette, poi li caricherò man mano nel tempo. Oggi in questo video particolarmente parliamo di Marchisio, quindi l'infortunio Marchisio che ha un po' stravolto i piani della società e non solo, anche i nostri, e di mercato in ottica appunto Marchisio, appunto la sua assenza che dovrebbe tornare più o meno per ottobre, comunque però si salterà la preparazione, quindi capiamo che è un giocatore di 30 anni che recupera un infortunio di 6-7 mesi che avrà un impatto parecchio pesante sulla stagione e anche sulla sua forma fisica. E quindi come potrebbe essere il mercato evolversi in tal senso? A parer mio, allora intanto le cose dipenderanno molto da tre punti cardine. Uno, la cessione o non di Pogba, cosa che darebbe non poca liquidità, ma come appunto ha detto Allegri, sarebbe meglio evitare, poiché se hai Pogba, hai Pogba, ma se hai 100 milioni non è detto comunque che tu riesca a prendere un altro giocatore della stessa qualità, quantità ed età che si adatte al campionato italiano come ha fatto lui. Insomma, Pogba è una certezza, l'eventuale acquisto se è buona incognita. Al di là di Pogba abbiamo anche altri due punti di domanda. Uno, la tenuta fisica di Chedira, cosa che dovrebbe far permettere a Marotte valutare se prendere un eventuale sostituto o no, è di scatto o meno di Lemina, cosa assolutamente non cesta ancora dato che il Marsiglia chiede 10 milioni, ma la Juve ha delle perplessità sulla tenuta fisica, cosa che appunto l'ha portata a chiedere il prestito di un altro anno al Marsiglia. Questo poi si vedrà in futuro, in ogni caso. Riguardo a quello che diceva lui, sì, Chedira, ovviamente la tenuta fisica è sempre stato un problema, anche prima dell'arrivo a Juventus. Comunque è un giocatore che va verso il 30 anche lui, perché è nel 29 adesso, quindi perché è nel 87. Ovviamente avere un centrocampo di qualità, perché Chedira, Chedira, Pogba, Marchisio, Lemina e quant'altro, è avere un centrocampo di qualità, però il problema più importante è che un giocatore deve giocare almeno 30 partite l'anno e non essere infortunato per 30 partite l'anno. Quindi se la qualità, bisogna trovare una compromessa tra la qualità e la tenuta fisica, altrimenti può avere anche Messi, ma se Messi si è rotto, è rotto e basta, insomma. Riguardo a Lemina, io sono d'accordo, per meno con lui, nel senso che io lo riscaterei, perché comunque la cifra di 10 milioni non è alta per la Juventus, non più perlomeno, però ovviamente se c'è qualche problema, qualche perplessità da parte dello staff medico, tecnico e quant'altro, che lo vedo ogni giorno riguardo la tenuta fisica, e si potesse risolvere con magari un prestito oneroso e magari inserire in qualche modo, magari Isla, in un eventuale riscatto definitivo che è al Marsiglia appunto, perché De Ceglie torna, sfortunatamente, e in tutto il caso Lemina, anche se avesse una tenuta fisica precaria, però a meno di 10 milioni sarebbe comunque un affare, perché parliamo di un giovane che magari prima o poi si rimette in sesto, insomma. Comunque, riguardo a Pogba, ovviamente è incedibile, secondo me, semplicemente perché non ha un ricambio naturale nel mercato, con 100 milioni ti puoi rifare una squadra, o meglio, puoi allungare una panchina in quanta qualità, ma non hai più un giocatore di livello superiore rispetto agli altri, quindi bisogna trovare, insomma, la soluzione migliore per alle due, e secondo me è la soluzione migliore a qualità nel Pogba, e farlo diventare il punto cardina di questa squadra per i prossimi 7-8 anni, insomma. Quindi il mercato sicuramente si avvierà verso una situazione di acquisto e rinforzo, sia quantitativo che qualitativo, della Rosa, perché quello che ha fatto negli ultimi anni, partiamo dal centrocampo del 2011 che aveva già Carini, e arriviamo adesso con un giocatore comunque, se non hai che dire, hai comunque Sturaro che ha fatto delle partite importanti in Europa, hai Lemina, che è un giocatore di prospettiva molto interessante, e così via, insomma. C'è da dire una questione riguardo al centrocampo, appunto, sempre legandosi alla qualità e alla quantità, ma soprattutto alla tenuta fisica dei giocatori. A Samoa per lei erano giocatori molto di qualità, molto importanti, che però fanno 10 partite l'anno, e non puoi avere una panchina fatta, insomma, con una squadra di 10 centrocampisti, di cui 7 praticamente sono a casa un giorno sì, anche l'altro, per motivi fisici. Quindi bisogna fare anche un ragionamento in quel senso. Chi bisogna cambiare per garantire una tenuta fisica decente al centrocampo, visto anche l'infortunio di Marchisio, e chi bisogna mantenere, mantenendo una qualità sì, ma anche una tenuta fisica decente, perché altrimenti è meglio avere Sturaro, insomma, che ti permette di fare 40 partite del campionato in modo discreto, che avere magari un giocatore di livello molto superiore che ti fa 10 partite perché l'altro 40 è rotto. Bisogna cercare di capire qual è, trovare un compromesso tra le varie cose, insomma. Ovviamente. Un altro senodo cruciale potrà poi essere la difesa. Una cosa da non sottotare, poiché onestamente non credo che la società spenderà altri 100 milioni sul mercato, come è fatto l'estate scorsa, al netto di eventuali cessioni. Bensì, si dovranno equilibrare un attimino le spese, valutando anche come siamo messi dietro, poiché appunto Licksteiner ha pur sempre alla sua età 32 anni, cosa che non gli permette di fare l'esterno del 3-5-2 per tutta stagione. Quadrado sappiamo bene che andrà via, e servirà un ricambio appunto di Licksteiner, sia come terzino che come esterno offensivo. Per quanto riguarda poi i centrali, invece abbiamo Barzagli, che è grandissimo, fortissimo, ha pur sempre 35 anni, le prossime 36, e il suo sostituto dovrebbe essere Rugani, che al momento però sta sostituendo Chiellini, altra tegola appunto in casa Juve, poiché ha 32 anni e quest'anno ha saltato tantissime partite, fra Ginocchio e Polpaccio. Un altro punto potrà essere Evra. Evra non ha ancora rinnovato, e si dovrà valutare cosa fare con lui in futuro. Se dovesse rinnovare, a sinistra sarebbe a posto per un altro anno, con Evra che si accomoderebbe in panchina, lasciando il posto da titolare a Sandro. Se non dovesse rinnovare, ci sono varie alternative. Una delle tante mi viene in mente ora è Masina, stasera nel Bologna. Spero non Deceglie, ne sono sicuro. No, Deceglie tornerà a Torino e tornerà all'altra parte subito. In ogni caso, passare dalla coppia Sandro-Evra alla coppia Deceglie-Ziegler, come qualche anno fa, direi che è un netto passo in avanti. E questo bisogna mantenere il livello. Io riguardo Licksteiner, sì. Licksteiner si accomoderà un po' alla volta in panchina, in modo graduale, come è fatto Evra quest'anno, perché comunque l'età è quella che è. Come soluzioni, io credo che si andrà in caso Udinese o in caso Sassuolo. Questo per i rapporti che ci sono tra le società, primo. E secondo punto, soprattutto perché Marotto ha fatto intendere in un'intervista recente che prima si guarda in Italia, poi si guarda all'estero. Questo vuol dire che Versalico e Vito sono i nomi che sicuramente saranno caldi quest'estate. Non credo altri, in quanto i Danilo che si dice, scordatevi perché sono fuori portata, perché per un terzino la Juve non va a spedere 30 milioni, a meno che non sia Alessandro che ha un perché. Beh, Danilo è praticamente il gemello destro di Alessandro. Giocano entrambi in nazionale. Il Danilo però ha un ingaggio diverso, perché la Madrid l'hanno pagato sicuramente tanto, rispetto a Alessandro che al Porto non veniva pagato tanto, perché hanno un monte ingaggi più basso. Quindi bisogna fare anche un'obiezione circa l'ingaggio. Quindi alla fine adesso il sogno trequartista secondo me verrà accanto a un altro per sopperire alla mancanza iniziale di Marchese, che potrebbe essere una mancanza nei primi mesi anche dovuta alla forma fisica. Quindi si cercherà di rinforzare il centrocampo nella sua complessità. Bisogna vedere a Ligri cosa vuole o cosa non vuole. In attacco io credo che siamo così a posto. Quello che ci sono non verranno fatte e se dovesse essere fatte difficilmente la Juve interverrà in modo pesante, come tanti dicono, i Cavani e quant'altro, perché non è un obiettivo plausibile. Quindi io lascerei queste cose come sono, sinceramente. Poi se vogliono fare Berardi, che arrivi Berardi, però non più di quello. E per il resto la difesa, sì, siccome è un altro uomo per via soprattutto dell'età dei giocatori di punta come Bardagli e Chiellini, che ormai sono a fine carriera soprattutto Bardagli. Tutto dipenderà anche dal modulo che vorrà fare l'anno prossimo, in ogni caso. Perché? Sì, perché avere un difensore in più, in una difesa a tre, vorrebbe dire avere almeno altre tre alternative, in una difesa a quattro e due centrali. Quindi è già una cosa più facile da risolvere, in quanto a numeri. E soprattutto Morata resta o non resta? Anche qui ci sarà un altro bivio fondamentale per la campagna acquisti della Juve, poiché Marotta non ha ancora garanzie dal Real, non si sa ancora cosa fare, insomma. Da parte del giocatore e della società c'è ottimismo, filtro ottimismo, però il Real ha in mano il pallino del gioco. Quindi bisognerebbe prendere un altro attaccante qualora dovesse andare via lui. I nomi caldi sono al momento Ben Teke e Lukaku, cui onestamente credo poco, perché hanno costi spropositati. Adesso che c'è l'Europa del Belge, appunto, che partecipano tra l'altro in girone con noi, quindi l'avete ancora più dura nel caso facessero un europeo da chilo. Quindi sono nomi abbastanza difficili. Quindi per questo video è tutto, abbiamo più o meno sparato qualche nome, tenendoci comunque in un livello di probabilità, insomma, senza sparare i Cavani, i Messi, Ronaldo e quant'altro. Questo video avvolge il termine, ringrazio lui. Arrivederci ragazzi. E al prossimo video che sarà quello che sarà. Ciao. Ciao.